allora ragazzi siamo arrivati alla puntata del lunedì come al solito lo speciale sul fumetto mi invento un argomento insomma ne discutiamo assieme ecco io volevo invogliarvi un po di più quindi questo video sarà un pochino più breve se diventerà lungo lo dividerò in due parti non farò due puntate e volevo comunque invogliarvi facendovi delle domande voi mi rispondete poi magari io vi darò la mia la mia opinione la puntata successiva e così e così via quindi iscrivetevi al canale non perdete le puntate insomma e cercate di partecipare a questi piccoli quiz anche che che corrono ma più che altro e mi piacerebbe che un punto se questa puntata per perché vi faccio le domande vi faccio il pombo delle curiosità e mi interessa sapere la vostra opinione sarebbe bello fare anche delle dirette invitare qualcuno di voi ma insomma il canale ancora non lo permette quindi quindi andiamo avanti così fino a quando ci divertiamo insomma niente questa puntata era dedicata appunto a cosa si può cambiare non cosa c'è cosa da cambiare la bonelli e cosa da cambiare il manga se c'è qualcosa da cambiare in tutte e due le parti quindi iniziamo con la bonelli non dicendo qual è il problema principale da bonelli insomma ne abbiamo già parlato su questi grandi dialoghi ci possono ancora stare no io ho notato una cosa cosa si potrebbe cosa potrebbe cambiare la bonelli naturalmente scegliamo la bonelli come fumetti italiani perché perché insomma quelli quelli dove i fumetti ce n'è di più però possiamo anche parlare di alan ford diabolic vediamo le puntate quante ne escono ma in questo momento facciamo queste queste puntate 1 o 2 puntate che riguardano la bonelli e il manga quindi partiamo con la bonelli ecco io ho notato una cosa della bonelli no nella bonelli non c'è non c'è diciamo così forse una storia con personaggi con con un gruppo di personaggi che diventano famosi nel tempo che ti invogliano a volte a cercare un qualcosa di diverso una grande saga come posso dirti no sì magari c'è stato in passato posso pensare magari anche a orfani non l'ultimo che mi viene in mente che ho letto che a me è piaciuto e a molti no però anche lì si identificavano in stagione il personaggio principale poi alla fine c'era ringo insomma ma come posso dire storie storia un pochino con l'ho veduto un po un po più ampia no noi abbiamo nella bonelli per la maggior parte del tempo il singolo eroe no dilan dog martin mister natan never eccetera e zagore e via dicendo però ecco alla fine no questi personaggi sembra che si assomigliano un po tutti a mio avviso no mettendole assieme dopo tantissimi anni mi sembra un po che diventano dei fantocci non quasi quasi non più credibili a volte e quindi quindi appunto stavo pensando se non era ora di cambiare un pochino le carte in regola no come posso dire delle 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 saghe alla the walking dead ecco per farmi esempio un altro un altro prodotto che io apprezzo tantissimo che apprezzo tantissimo oppure ecco abbiamo fatto dragonero ma poi la fine sempre lui non protagonista cioè un qualcosa dove dove quello che potrebbe sembrare protagonista poi magari ci stupisce muore oppure cambia protagonista ecco che forse la debolezza della bonelli sta diventando proprio quella no e sta diventando quello adesso diciamo la bonelli ma in realtà anche gli altri protagonisti anche lo stesso samuel sterr no quindi quindi parte le problematiche insomma che conosciamo sempre ecco secondo me questo è un mio punto di vista ecco magari cambiare qualcosa su quel lato lì non non cercare per forza tutti i costi il sempre solito protagonista probabilmente negli anni 70 negli anni 80 andava bene no ognuno di noi si identificava in un eroe ma oggigiorno forse forse non funziona più tantissimo ecco sì ci sono ci sono ancora gli amatori però ecco provare a fare questi cambiamenti e naturalmente io farò scorrere l'immagine della bonelli poi nella seconda parte che faremo la prossima volta e parleremo del ma dei manga insomma farò scorrere i manga quindi anche chi si si trova in questa puntata dove magari io parlerò solo della bonelli insomma che un amante dei manga potrebbe seguirlo per poi seguire un filo logico con una seconda puntata e quindi aiutare anche no il lettore della bonelli a capire se quale potrebbero essere i problemi dei bonelli ecco è tutto qua questa puntata volevo fare corta e quindi poi continuerò a parlare dei manga ma la faremo la prossima puntata semplicemente per ditemi voi no qual è un punto che potrebbe dare una svolta diversa al bonelli ecco a me mi è venuto in mente questo no quello di una una grandissima storia con con più personaggi con più protagonisti con più protagonisti che magari muoiono no una continuity fare una specie di appunto ne abbiamo tantissimi esempi ho fatto quello di the walking dead no e quindi io io ho tirato fuori questo punto no se potrebbe essere un'idea come cambiare come sviluppare diversamente no la bonelli naturalmente puntiamo sempre sui soliti personaggi ma a mio avviso sarebbe sarebbe bello provare a fare una serie no che dura negli anni che comunque si trasforma poi se magari c'è già voi ditemelo che magari è stata fatta forse caravan in passato adesso non mi ricordo neanche più la trama seguiva il filo logico no però ecco continuare continuare provare a continuare a farlo rendere un fumetto fruibile nel tempo no cioè che una persona può continuare a guardare nel tempo come come si è fatto con con gli altri protagonisti perché ripeto a mio avviso alla lunga il singolo personaggio no io a volte li vedo c'è martin mister anche l'ultimo quando lo leggo è rimasto agli anni ottanta cioè non è cambiato è rimasto vecchio vecchio no molte volte anche anche in nata never no che è ambientato nel futuro e sembra sembra più giovane quello degli anni novanta che quello di adesso adesso lo leggi e non puoi percepire come se fosse un fumetto degli anni 90 il protagonista degli anni 90 negli anni 90 c'era comunque insomma pensavi che comunque era era un nuovo c'è un personaggio nuovo quindi un personaggio secondo me migliore di adesso perché rimane rimane sempre il solito è nata nel come protagonista ecco io dico quello ho trovato ad esempio molto non me l'aspettavo ad esempio zagoro molto leggibile soprattutto negli ultimi numeri molto giovane però anche lì e ripeto rimane sempre il solito personaggio fisso della bonelli ecco niente con questo l'ho fatta corta sono rimasto nei dieci minuti quindi nella prossima puntata faremo appunto la seconda parte della puntata parleremo invece cosa dobbiamo cambiare cosa si potrebbe modificare nei manga con un consiglio insomma o perlomeno cosa vi piacerebbe ecco più che altro cosa vi piacerebbe di manga o dei bonelli in questo in questo momento di diverso di trovare qualcosa di diverso ecco quindi in questa puntata insomma per tutti i nomi dei bonelli scrivetevi scrivetevi scrivete il vostro parere cosa cosa vi piacerebbe avere all'interno di un bonelli e se qualche insomma qualche lettore manga si trova da queste parti o qualche lettore manga che legge anche qualche bonelli vuole dire la sua lasciate lasciate comunque un commento ne discutiamo assieme insomma e facciamo continuiamo la prossima puntata quindi ragazzi ci vediamo presto il prossimo lunedì con la puntata dedicata ai manga e iniziate a pensare cosa si cosa cosa vi piacerebbe vedere di diverso comunque cosa vi piacerebbe vedere nei manga che ancora magari non si è visto ecco è un po difficile perché comunque i manga trattano ecco a differenza abonelli trattano tantissimi generi ok anche con oggi abbiamo abbiamo concluso ragazzi ci vediamo alla prossima mi raccomando seguite anche qualche link che vi metto sotto io disegno in modo amatoriale anche i miei fumetti sono gratuiti online andate sul link e ve li scaricate non tutti perché insomma ci sono delle restrizioni però fatemi sapere anche la vostra che ragazzi ci vediamo alla prossima ciao